Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lillipet, che mi chiede di parlare del film di Jordan Peele, suo esordio del 2017, scritto, prodotto e diretto dallo stesso Peele, Scappa Get Out, ti sei portato a casa anche qualche Oscar, per quanto me ne freghi menù di un cazzo. Il film è molto particolare e che secondo me ha aperto la strada a uno dei registi più interessanti della storia del cinema americano degli ultimi anni, con il suo Scappa a noi Nop ha girato della roba incredibile, massacrata da molti, odiata da tanti altri che dicono che è spazzatura, ben per loro, per me invece questo regista è un genietto e i suoi film sono sempre imperdibili, questo Scappa è un piccolo genellino thriller horror con momenti di comicità esaltanti e momenti di cupezza incredibili. La storia è quella di Henry Euthorn, che è un ragazzo afroamericano, un ragazzo nero che va al college e sta con questa ragazza bianca da qualche mese. E lei decide praticamente di presentarlo ai genitori che vivono però nell'America del Sud, quella più rurale e quella più razzista. Il nostro le decide di andarci, nonostante il suo amico le dica dove cazzo vai, lì praticamente sono tutti nazisti, il nostro le decide di andarsi perché la ragazza le dice guarda i miei genitori sono buoni, non c'è problemi, non ti far fregare dalle solite cazzate. Lui quindi parte, va, arriva in questo paesino dove vivono i genitori che sembrerebbero davvero genitori democratici, aperti e tutto il resto, finché non incontra anche la madre, appunto, che sembra però una persona un po' particolare, sembrerebbe un ipnotista, che gli dice che se vuoi smettere di fumare ci penserà in due secondi, anche se lui è contrario, in realtà poi ce la fa a farlo smettere di fumare e di lì poi una caduta nell'inferno quando il nostro praticamente viene presentato a questa festa a molti altri e lo guardano in maniera strana, arriva questo ragazzo di colore che lui sembra aver già visto e che ha un flash, appunto, gli urla, scappa, get out, levati, vattene. A quel punto il nostro incomincia a notare delle cose stranissime e soprattutto incomincia a pensare che forse lo circonda, non sia davvero quello che gli è stato detto all'inizio. Quindi, un film secondo me è veramente bomba, un esordio col botto per un thriller fantastico che ha una comicità elevata sul nostro amico, del nostro protagonista, interpretato da Lil Roherty che fa appunto Rod, e poi c'è tutta la famiglia, uno più bravo dell'altro, tutti gli Armitage, Rose che ha una spianità Alison Williams, un ottimo Bradley Whitford a fare Dean, una clamorosa Katrin Ann Ivera a fare la grandissima Missy Armitage, è un film che secondo me è un film veramente che fa paura, nel vero senso della parola, Parina di Tutte è un film sociale e politico, un'altra volta parla chiaramente del razzismo e di come in realtà l'uomo bianco, in un certo senso negli ultimi tempi, abbia capito determinate cose e le voglia sfruttare. Non le voglio dire molto di più della trama di un film che trasporta a livello visivo veramente lo spettatore su un altro piano. La regia di Jordan Peele è curatissima, quadratissima, così come la sua sceneggiatura gli è stato cambiato solo il finale, ma è un finale che funziona così come funziona tutto il film, il film crea tensione, crea bei colpi di scena e poi ci sono degli squarci visivi incredibili quando loro entrano nella testa appunto e ti ritrovi a vedere la finestrina e vaghi nel nero, è una scena veramente imponente, grazie anche a un bellissimo montaggio di Gregory Plotti in una fotografia eccellente, di Toby Oliver che porta avanti appunto questa storia, una storia molto semplice però che si trasforma attraverso la visione in qualcosa di sempre più terribile, basta un uomo che corre, uno sguardo di una donna con un sorriso sghembo, basta riuscire a riconoscere determinati segnali per capire dove andremo a capire, a cadere e il film riesce a tenere sempre sulle spine, riesce a tenere attaccati in una maniera incredibile, poi il suo modo di raccontare appunto il razzismo americano e le falle di questo sistema è veramente ottimo proprio perché lo racconta senza appesantire minimamente il racconto che diventa sempre più intrigante, sempre più complesso eppure sempre più semplice anche nella sua spiegazione finale dove il nodo di Van Gaen al Pettine è tutto praticamente il castello di Carta che questi qui a diciamo alla fine del secondo batto si erano costruiti e incomincia a crollare davanti alla forza di un uomo che cerca di salvare se stesso e soprattutto l'anima di se stesso, lo sguardo, il suo modo, ecco più che il suo corpo, fa voi vedere il film perché poi pochi 14 che non l'hanno visto, ma ripeto sono tantissime anche le parti comiche, l'altro che praticamente ci prende dall'inizio che gli dice ti faranno diventare uno zombie per fare sesso, è geniale e poi c'è tutta un'idea appunto di costruzione tra i personaggi che non è per nulla banale, proprio a livello di dialoghi scritti benissimo, proprio a livello di messa in scena che ripeto si muove con dei piano sequenza fantastici, dei piccoli movimenti laterali che svelano più di mille parole. Jordan Pino è uno di quelli che fa parlare la regia, fa parlare le immagini, è un super culto, uno di cui film guarderei 650.000 volte con un grandissimo attore protagonista, Dianne Caluia che qui interpreta alla stragrande Chris, che insomma cade con tutte le gambe in una trappola che probabilmente sarebbe annusabile anche da lontano ma che non sembrerebbe più possibile appunto nel 2017. A voi scoprire questo film per chi non l'ha visto, se sentite dire che Jordan Peele fa ca' fatevi la vostra impressione perché secondo me Jordan Peele è uno dei migliori registi americani degli ultimi vent'anni e qui riesce a creare un'opera, un'opera prima tra l'altro che può avere i suoi difetti in qualche cosina ma che comunque porca miseria riesce un'altra volta a sorprendere per colpi di scena, per messa in scena, per come viene costruito, ecco il montaggio, le immagini con la musica dell'ottimo Michael Abels che crea appunto un'atmosfera opprimente, chiusa, che pure va a scozzare per esempio con questi ambienti apertissimi di questo sud dell'America così ampio, così aperto eppure che si richiude specialmente durante la notte e durante appunto l'incubo del nostro protagonista. Film onirico, un film schizzato, un film però quadratissimo a livello politico e sociale che racconta un'altra volta il male di tanti posti americani dove sembra essere andato avanti, il razzismo e tutto il resto, ma dove invece siamo ancora fermi al 1700. Detto questo, un film assolutamente da non perdere, per me questo è di Jordan Peele come tutta la sua opera che secondo me è già fenomenale, il link del film è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su Youtube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazza faccia di Giro per l'Italia, ripeto, Jordan Peele secondo me è un grande, questo film è bellissimo, è inutile perdere altre parole, guardatelo, guardatelo, e poi decidete se comprarlo, se non a me se lo guardate una volta lo comprate al volo perché è un film che ogni visione riesce a regalare sempre nuove cose, nuove emozioni, nuova voglia, insomma di scoprire i piccoli dettagli, ottimo lavoro di Jordan Peele che secondo me con i film successivi farà ancora di meglio, veramente un grande autore che sta nascendo nonostante gli haters e quelli ci sono sempre.